Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio di The Sims 4 e torniamo dopo un bel po' di tempo, sono passati un po' di episodi, torniamo a giocare con la famiglia di Daniele e Valeria delle Gemelline. Sono le 6 del mattino di giovedì mattina, quindi una nuova giornata sorge su Windenburg quest'oggi e non è una giornata qualsiasi ragazzi perché come avevo anticipato nello scorso episodio quest'oggi festeggiamo da calendario alla giornata di Halloween, è tornato di nuovo quel periodo dell'anno, quindi i nostri stanno ancora ovviamente riposando, la famiglia dorme tutta quanto e sto vedendo ora che Valeria mi dorme con gli occhiali, va bene, perfetto, è molto pratica questa cosa, qui abbiamo i panni sporchi di Daniele, incorreggibile come sempre anche in età adulta e vediamo un pochino, rifacciamo il punto ragazzi con questa famiglia perché è un pochino che non giochiamo con loro, anche perché ragazzi come vedremo adesso le nostre adolescenti si avvicinano sempre di più al momento di diventare delle giovani adulte e quindi insomma ci saranno molti molti cambiamenti nelle loro vite. Allora vi faccio anche vedere una cosa che non vi ho fatto vedere la volta scorsa, insomma l'ultima volta abbiamo giocato, io qui praticamente ho messo tutte le foto della loro vacanza a Sulani e ho messo qui tutte le foto che loro hanno scattato praticamente, dove hanno conosciuto insomma anche i Nolan, si sono fatti tutti quei bei selfie e poi anche le bimbe hanno messo invece i loro selfie ovviamente come sempre qui nella loro cameretta, quindi hanno aggiunto ancora altre foto con tutte anche appunto le vacanze estive, anche con la cugina con Diana quando sono andate a Windenburg eccetera, insomma hanno messo qui tutte le altre foto scattate insomma nel frattempo qui nel loro angoletto, nella loro scrivania sempre più ricca. Comunque allora vi dicevo facciamo un po', facciamo un po' il punto. Allora cominciamo con la nostra Vale, la nostra Vale il nostro danno ovviamente devono ancora raggiungermi i vertici delle loro carriere. Vale è a livello 8 della carriera di influencer, lei ha preso il ramo di stilista e io adesso mi concentrerei un pochino adesso, da adesso in poi con lei per avanzare con la sua carriera, quindi mi concentrerei un pochino su questo e chiaramente sempre cercando di continuare a tirare su la sua fama ovviamente. E per quanto riguarda la sua aspirazione, lei ha praticamente quasi finito. Infatti lei ha l'aspirazione progenie di successo e quello che le manca da fare è questo, c'ha un obiettivo che è dai lezioni a tuo figlio tre volte. Questo obiettivo si raggiunge semplicemente aiutando a fare i compiti, i figli. Quindi praticamente Vale ha già aiutato le gemelle un paio di volte a fare i compiti, adesso lo dovremo fare per una terza volta e avremo completato questo obiettivo. E poi l'ultima cosa che manca da fare è questo, fa in modo che un figlio e un nipote raggiunga il vertice di una carriera e io spero che come carriera mi conti anche quella di Scout di Lidia e quella del Club Drammatico di Ginevra, che vorrei cercare con entrambe di portare al massimo livello prima che mi crescono e diventano giovani adulte. E quindi vediamo se me la conta questa interazione o intende invece una carriera proprio da adulta, se no questa cosa sarà molto lunga da raggiungere e non riusciremo a realizzare in tempi brevi questo obiettivo. Quindi con Vale mi concentrerei su questo in questo momento. Lei tra l'altro oggi mi va al lavoro e dobbiamo raggiungere il livello 8 di scrittura e il livello 6 di pittura per poter poi ottenere una promozione. E invece dovevamo raggiungere il livello 7 di carisma che abbiamo già raggiunto, come in carico del giorno c'è sempre quello di aggiornare lo stato sui social media. Invece con il nostro Dani, con il nostro Dani noi siamo al livello 8 anche con lui della carriera, lui è un'astronata e ha preso il ramo di ranger spaziale. Con lui abbiamo già raggiunto tutti gli obiettivi che ci servono per ottenere una promozione che sono raggiungere il livello 2 dell'abilità di missilistica e raggiungere il livello 8 di forma fisica e come in carico del giorno dobbiamo fare una missione nello spazio. Anche lui mi va al lavoro tra quattro ore. Le nostre ragazze invece come sono messe? Allora Ginevra è una studentessa del liceo da 10 e per quanto riguarda il suo club drammatico è arrivato al livello di interprete pratica che è il livello 3 della carriera. La promozione seguente è la promozione di artista junior. Non so sinceramente quanti sono i livelli per quanto riguarda il club drammatico quindi vedremo insomma se riusciremo a completarla e come sempre appunto dobbiamo imparare nuove battute e dobbiamo sviluppare l'abilità di recitazione portando al livello 3 per diventare artista junior quindi questo l'abbiamo già fatto quindi siamo già pronti per una successiva interazione si tratta solo di mandarla al club e con lei vi ricordo che abbiamo in famiglia una bellissima streghetta e siamo al rango di accolita rango di accolito che sarebbe il terzo livello diciamo quindi siamo all'incirca a metà e quindi con lei dovremo anche insomma lavorare ovviamente sulle sue arti magiche naturalmente e per quanto riguarda la sua aspirazione lei ha proprio l'aspirazione di incantamento e stregoneria quindi dovremo continuare per completarmi quest'altra pietra miliare mi deve finire di raggiungere appunto il rango 3 di lancio di incantesimi che appunto il rango di adepta e gli altri obiettivi li avevamo già fatti quindi lei è in questo momento a livello 2 di 4 della sua aspirazione la nostra lidietta invece la nostra lidietta è una studentessa anche lei da 10 con gli scout siamo messi benino con lei penso che ci manca da raggiungere soltanto l'ultima promozione che è quella degli scout dei lamacorni e dobbiamo guadagnare altri due distintivi che sono gli ultimi gli ultimi che ci mancano da guadagnare e e quindi lavoreremo anche con lei in questa direzione lei ha già fatto l'incarico entrambe mi hanno già fatto i compiti sono pronte stamani per andare a scuola e ragazzi però la cosa che vi voglio far vedere è questa ovvero che le ragazze tra tre giorni mi passano di età quindi dobbiamo sbrigarci ragazzi dobbiamo sbrigarci perché dobbiamo fare un sacco di cose dobbiamo fare un sacco di cose e soprattutto voglio preparare le mie ragazze al meglio per andare all'università perché manderò entrambe all'università poi vedremo l'approccio che avranno all'università perché avranno approcci diversi loro due ho fatto un po i miei studi ho fatto un po di ricerche per vedere cosa fare cosa non fare eccetera eccetera e ho deciso anche già quali corsi di laurea far intraprendere alle ragazze per ora non so se rivelarvelo ora magari ve lo dico tra un pochino non so se in questa puntata o nella prossima però so bene già che cosa far fare loro e quindi più avanti poi vi spiego meglio i miei piani però diciamo che quindi dobbiamo un pochino lavorare su alcune alcune cose prima che mi diventino giovani adulti perché ragazzi a breve festeggeremo quindi anche il loro compleanno quindi c'è tanto da fare e pochissimo tempo mamma mia comunque oggi anche halloween ragazzi in questo episodio è la festa di halloween e quindi faremo fare loro insomma tutta la bella giornata e poi stasera andremo a festeggiare in maniera un pochino un pochino diversa dalle feste che abbiamo che abbiamo fatto ora niente di troppo particolare però diciamo diverso una cosa che ancora nel gameplay non abbiamo fatto vi faccio anche vedere infatti io questo giro ragazzi non ho messo fuori non ho messo fuori decorazioni perché comunque anche perché le ragazze sono entrambe ragazzi ci sono i panni sporchi di daniele anche qui anche perché le ragazze come dicevo sono due adolescenti quindi festeggeremo in una maniera un pochino più adulta diciamo questa volta halloween e niente poi insomma andremo a vedere quelli che sono gli obiettivi della festa insomma quando quando ce ne occuperemo comunque io direi di cominciare la giornata allora fatemi vedere come siete messi allora vale mi devi andare in bagno e hai fame perfetto quindi te vai pure in bagno usa pure daniele invece mi sta bene per ora quindi mi puoi mi puoi anche scendere a fare magari un po di colazione le ragazze come stanno allora gine ha solo fame lydia bisogna anche di andare in bagno allora la nostra lidietta mi va anche un attimino in bagno intanto voi ragazzi venite qui e magari fate un po di colazione vediamo cosa abbiamo abbiamo qualcosa per colazione ok questi biscotti con scaglie di cioccolato direi che vanno che vanno benissimo allora danni siediti pure e mi prendi una porzione e anche te gine ti siedi tranquillamente e mi prendi anche tu una porzione te stai bene sei a posto hai già fatto tutti i compiti per scuola quindi non abbiamo problemi possiamo fare colazione in tranquillità magari scambi anche due chiacchiere col babbo visto che ci sei raccontano storie incredibili ora si alzeranno sicuramente e e poi anche voi ragazzi infatti si stanno alzando potete venire qui e fare un po di colazione valeria non mi si era svegliata siediti e prendi una porzione perfetto ola poi il nostro danni il nostro danni entra al lavoro alle 10 a ragazzi la cosa che non vi ho detto ma tanto penso che ve lo ricordiate con lui l'aspirazione del formaggio grigliata l'avevamo già completata da tempo quindi con lui siamo a posto quindi direi che poi lo possiamo mandare a fare una missione nello spazio col corrazzo sicuramente quindi poi facciamo esplora lo spazio perfetto invece con vale ragazzi ci ho ripensato con vale mi so che non la mando al lavoro la tengo qui a casa così approfitto per lavorare un po su queste sue abilità io ormai per tirare su il livello 8 di scrittura le sto continuando a far scrivere libri sullo stile come avevamo detto no un po da appunto l'influenza specialmente gli youtuber insomma tutti questi personaggi comunque scrivono spesso insomma dei libri anche autobiografici eccetera e quindi con lei sto facendo un po una cosa di questo tipo scrive tutti tutta della saggistica su consigli di moda di stile su quella che è la sua vita personale insomma sta facendo vari libri di questo tipo cosa che ci aiuta anche tra l'altro poi ad ottenere fama quindi insomma sto lavorando un pochino anche in questo senso va bene ragazzi voi siete anche siete anche pronte avete bisogno di qualcos'altro te gina avresti bisogno un attimo di andare in bagno quindi magari va in bagno e ok problemi tecnici daniele sta per affrontare un'altra straordinaria avventura nello spazio o meglio lo farebbe se la sua nave si stesse davvero muovendo ma non sembra il caso un messaggio d'errore sullo schermo di controllo principale lo informa che i driver del dinotermo della nave devono essere aggiornati va bene prova ad aggiornare dicevo l'idietta c'è anche bisogno un po di socialità allora magari chiacchiera con la tua mammina fai una conversazione profonda e mi racconti una storia coinvolgente così poi quando torno da scuola ci concentriamo anche sulle ragazze lavoriamo un pochino con loro sulle loro sulle loro abilità comma 22 quando daniele clicca sul pulsante aggiorna per installare più recenti driver del dinotermo appare un provvidenziale messaggio secondo cui la richiesta non può essere accolta perché i driver del dinotermo non sono stati aggiornati e ho capito questa cosa se li dobbiamo aggiornare è ovvio che non sono stati aggiornati chiamiamo il supporto tecnico vediamo vediamo cosa succede ok lei intanto sta chiacchierando con la sua mammina questi li posso riporre io e poi le bimbe le possiamo anche tranquillamente mandare a scuola assolutamente allora chiamata al supporto tecnico daniele saluta il supporto tecnico al comunicatore una voce registrata dice la sua chiamata è importante per noi saremo da te entro un ciclo galattico fantastico un ciclo galattico è un'unità di misura del tempo equivalente a 394 anni sim viene proprio riprodotto una melodia snervante riavvii di notermi rimani in linea proviamo a rimanere in linea vediamo se riusciamo a contattare un operatore ok media va bene facciamola socializzare un altro pochino con la mamma e poi la mandiamo a scuola facciamo studiare sodo ginevra o allora in attesa la voce torna a farsi sentire la tua chiamata è importante per noi riprodurremo questa musica per te se non lo fosse la snervante melodia sembra aumentare di volume è stato lo 000,3 per cento di un ciclo galattico proviamo a rimanere in linea ormai voglio mantenere questa questa direzione ragazzi voglio vedere dove va a fare dove va a parare va bene mandiamo anche lidia a scuola uh debuttante illustre cosa perché ha guadagnato fama allora chiamato il supporto chiamata al supporto tecnico daniele riesce finalmente ce l'abbiamo fatto a collegarsi con il supporto tecnico una voce registrata dice salve in cosa posso esserti utile puoi rispondere riparazioni navali o follia spaziale io direi riparazioni navali ragazzi comunque abbiamo guadagnato fama ragazzi perché anche i viaggi nello spazio effettivamente danno fama e quindi sta diventando un'auta famosa anche il nostro daniele va bene intanto concentriamoci su vale che nel frattempo mi sta bene allora tesoro mio ti cambi di abito ti metti i tuoi abiti questi qui invernali vanno benissimo e ce ne andiamo un pochino su a finire se non sbaglio mi stava già scrivendo un libro lei quindi dovremmo avere già del materiale allora riprendi a scrivere esatto una vita di stile infatti mi stava scrivendo questo oddio che è successo una lieve incomprensione riparazioni navali scandisce lentamente daniele al comunicatore hai selezionato autodistruzione cosa replica la voce attivazione a distanza della funzione di autodistruzione della tua nave o no o no lo dico io proprio oddio mio cosa succede ok lidia è andata a scuola e la faccio lavorare e studiare sodo lampeggiano luci rosse e suonano sirene mentre la nave si prepara ad annientarsi poi la calma regna sovrana e appare un messaggio di errore con un piccolo ping pare che i driver dell'autodistruzione della nave debbano essere aggiornati cliccando accuratamente su un onore daniele promette solennemente di effettuare un aggiornamento completo del sistema appena sarà nella sicurezza di casa sua meno male daniele ha fatto ritorno in tutta sicurezza dall'esplorazione del cosmo e andrà a lavorare tra un'ora perfetto benissimo abbiamo guadagnato fama ragazzi va bene siamo famosi va bene vammi in bagno caro e poi ti prepari oddio quanti panni sporchi mi sa che c'è da fare una lavatrice qui allora spazio esplorato chi non sarebbe felice dopo una gita nello spazio meno male che sei felice daniele va bene ci manca ok l'abbiamo quasi raggiunto il livello 8 tra l'altro allora valeria mi lavora da casa così la faccio lavorare su queste cose e nel frattempo abbiamo avuto anche i rapporti sui diritti d'autore perfetto cosa hai detto mentre rispondeva una domanda l'idea ha usato parole proibite l'insegnante non chiedeva alle sue orecchie o no avevano presi i provvedimenti influenza ed educazione sono solo parole influenza l'empatia o no vanno presi i provvedimenti sicuramente ok daniele mi sta andando a lavorare e ovviamente non mi ha caricato la lavatrice fantastico ha solo messo le cose va bene poi lo facciamo fare a vale gestisci lo stagista a daniele è stato assegnato uno stagista da formare e gestire come deve organizzarsi daniele con lo stagista assegna la distribuzione di caffè assegna incarichi difficili no se primo giorno no facciamogli fare la gavetta e lo assegniamo la distribuzione del caffè mi sembra la cosa giusta intanto vale ragazzi mi ha raggiunto il livello 8 di scrittura ma ormai le faccio finire di scrivere il libro abbiamo aumentato il rendimento medio con lo stagista da distribuire caffè daniele può concentrarsi sui propri incarichi più impegnati vi do per fatto il piano di caffeina e con i piedi riposati dal punto di vista gestionale è un'ottima giornata perfetto ok ragazzi vale mi ha finito di scrivere il libro quindi io direi che possiamo anche andare a a metterlo a vendere i diritti d'autore quindi lo vendiamo a un editore una vita di stile così ci prendiamo un altro pochino di fama perché questa stellina io almeno la quarta stellina di fama sinceramente la vorrei raggiungere in effetti quindi vediamo un pochino perfetto benissimo allora a questo punto avresti bisogno di divertimento vediamo comunque se ti diverti disegnando quindi io direi che ci possiamo mettere la tua tavoletta grafica ce l'ha nell'inventario vero cara sì perfetto quindi vieni qui ti metti magari comoda comoda qua sul divano ti siedi e mi dipingi un altro pochino di mi fai un altro dipinto illustrativo e mi fai un dipinto illustrativo medio vediamo cosa fai se magari qualcosa di carino che possiamo appendere vediamo se tiriamo ancora su anche appunto l'abilità di pittura che dobbiamo portare a livello 6 ok ginevra ha il club drammatico tra mezz'ora quindi vediamo se la facciamo esercitare quindi cos'è che dobbiamo fare con lei fatemi vedere imparare nuove battute usando uno specchio selezionando il sim quindi usiamo lo specchio quindi facciamo 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 impara nuove battute lei mi ha ragazzi di recitazione il livello 3 appena raggiunto perfetto la facciamo esercitare vediamo se siamo pronti prima di andare appunto al club visto che un po che l'ha saltato speriamo si diverta a fare questa cosa anche l'idea è molto tesa ha bisogno di divertimento allora con lei con lei invece vediamo un pochino come siamo messi con l'avanzamento dei distintivi quindi abbiamo già fatto l'incarico ma va bene uguale quindi visualizza l'avanzamento del distintivo perché non mi ricordo più che cosa dobbiamo fare ovviamente quindi lo rivediamo insieme ok allora ci mancano soltanto due distintivi allora uno è arti e mestieri dobbiamo creare oggetti disegni o dipinti e un altro è ricambia dono oggetti in beneficenza dalla cassetta postale dal computer esegui interazione social amichevole dai dei doni perfetto allora per questa interazione qui ho già in mente qualcosa comunque comincerei con arti e mestieri e visto che ci servirà con la nostra lidietta sempre per poi andare nella giungla l'abilità di manualità io direi che la nostra lidia seguendo le orme dei suoi genitori mi viene qui e mi comincia a costruire un po di cosine quindi mi fai un bel ceppo per coltelli e tiriamo un pochino sulla sua manualità anche così uniamo l'utile al dilettevole allora ginevra mi sa che comunque mi deve andare assolutamente quindi vai va bene basta un pochino l'hai fatta la cosa va bene ti faccio lavorare sodo poi lì ok intanto lidia mi ha acquistato la manualità perfetto e ginevra la facciamo tipo lavorare sodo se è possibile vediamo lei è già attesa ma va bene lavora sodo dai vediamo se abbiamo la promozione lei qui sta lavorando vediamo se vale ha finito gabri cosa ci fai qui gabri gabrile si è auto invitato a casa nostra e ora abbiamo un attimo da fare scusami tanto sai caro mi hai finito di fare il dipinto te in tutto questo no non me l'hai finito il dipinto infatti riprendi il dipinto illustrativo medio ti sei messa a chiacchierare ma nessuno ti aveva detto di farla questa cosa ok vale mi ha finito il bozzetto ma mi sa che questo l'avevamo già visto aspettate guardiamo qui com'è sì questo me l'aveva già fatto quindi lo possiamo anche vendere tranquillamente e magari allora adesso mi fai qualcosa di grande facciamo un dipinto illustrativo grande dai andiamo avanti perché comunque dobbiamo ancora fare un pochino di di cosine la pittura vedete siamo ancora al 42 per cento ok intanto ginevra è tornata dal club drammatico perfetto allora con lei farei una bella cosa siccome come vedete c'ha un sacco di bisogni ed è tesissima io sfrutterei dovremmo avere ancora nell'inventario se non sbaglio esatto una pozione di bisogni abbondanti quindi bellina te mi vieni qui mi vieni intanto dentro che sta piovendo vieni pure qui cara vieni qui mi vieni qui e mi bevi la pozione così ti riprendi subito e possiamo fare altre cose decisamente ok intanto lidia mi ha fatto ed è a disagio per la pioggia va bene va bene non importa allora vieni dentro vieni dentro e vediamo se comunque mi conti questa questa creazione come un distintivo guadagnato ok lei intanto mi ha bevuto la pozione infatti adesso dovrebbe stare proprio alla grande sta benissimo è molto utile questa pozione effettivamente gliene devo fare un botto di pozione le uso su tutti quanti uh ragazzi ce l'ho promosso daniele ce l'ho promosso daniele si ragazzi me l'ha contato come punto di avanzamento perfetto benissimo benissimo wow ma sei un capitano di una flotta interstellare sei bellissimo con questi vestiti e giustamente sei anche a disagio perché piove hai ragione allora fatemi vedere allora guadagniamo 118 simoleon in più allora per un totale di 297 abbiamo ricevuto anche il bonus di 3149 simoleon e lastro coniglio oltre l'infinito questo sicuramente è un qualcosa nell'inventario leggiamo intanto la descrizione allora dobbiamo raggiungere livello 4 di missilistica e ce l'abbiamo dobbiamo massimizzare l'abilità di forma fisica e portarla a livello 10 abbiamo 8 di 10 dobbiamo fare come sempre missioni nello spazio va bene adesso praticamente mi lavora da lunedì al giovedì dalle 10 alle 17 molto molto bene range spaziale tutta la galassia è sotto la giurisdizione di daniele assegna punizioni giuste ed eque con una buona dose di carattere senza farsi mettere i piedi in testa dagli alieni a prescindere dal numero di tentacoli file di denti o bulbi oculari che hanno inoltre daniele può levarsi lo sfizio di parlare come uno sceriffo promozione seguente diventiamo a tutti gli effetti range spaziale per ora siamo sceriffo delle stelle vediamo un pochino cosa ci hanno dato wow una statua gigantesca che bello bella sobria soprattutto io direi di metterla proprio all'ingresso no per far capire che qui vive un astronauta oh signore la mettiamola vediamo magari qui qui si dai così ci sta vediamo se c'è in altre colorazioni no c'è solo così va bene con lui che indica verso l'infinito e oltre si bellissimo adoro è bellissima effettivamente mi piace tantissimo questa cosa c'è anche il coniglio bellino che anche lui indica lo spazio no vabbè fantastica bellissimo bellissimo valeva la pena di prendere questa carriera solo per questo premio comunque io direi caro il mio danni vabbè ti devi divertire vabbè fai una bella cosa che devi fare te per gli incarichi te devi sviluppare la forma fisica allora vieni qui ti fai un bel po di jogging ti alleni magari fai una sfida della collina così mi comincia a lavorare sulla forma fisica io direi bimbe che voi allora stasera si va a festeggiare visto che domani comunque ci sarà scuola io direi che comunque i compiti vanno fatti te ti metti i tuoi bellissimi outfit da strega perché sei troppo bella e te va bene sei già vestita per bene ok quindi direi tutte e due compiti qui a sedere quindi lidia qui e gine qui a sedere da brave e tutte e due mi fate i compiti e la mamma vi viene ad aiutare così almeno mi completa la pietra miliare quindi fai i compiti e anche te mi fai i compiti dai e la mamma finisce dopo di disegnare va bene e vieni qui e mi aiuti assisti lidia dai aiuta a fare i compiti non parlare con gabriele che non so neanche perché si è auto invitata a casa nostra in tutto questo cioè veramente sì grazie gabi è stato bello ciao 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 quindi vi faccio vedere in teoria e vedete me l'ha già automaticamente sbloccata questa interazione semplicemente quindi dobbiamo soltanto fare in modo che raggiungano il vertice di una di una carriera ok lidia ha finito di fare i compiti perfetto quindi vorrei provare a fare una cosa lei ancora disagio va bene per questo vorrei provare a questo punto a fare anche una donazione vediamo se possiamo farlo dal telefono per esempio no mi sa che dobbiamo andare alla cassetta postale o al computer vediamo se lo possiamo fare dal computer allora vediamo un pochino ecco dai un dono in beneficenza ah è dono delle cose che possiedo io ok cosa doniamo in beneficenza abbiamo un sacco di cose che abbiamo preso che abbiamo preso anche in vacanza ma io donerei questo ceppo per coltelli molto brutto che abbiamo fatto donerei questo così sblocchiamo il distintivo intanto gine sta a quasi finito io direi che poi con vale facciamo una bella cosa perché ragazzi stasera le nostre ragazze andranno a festeggiare halloween con tutti i nostri altri adolescenti faremo una bella festa in discoteca ragazzi andiamo al locale lotturno loro sono adolescenti e quindi i nostri ragazzi andranno a ballare windenburg ha una bellissima discoteca e quindi andremo a festeggiare halloween come fanno gli adolescenti andando alle feste si mascherano e hanno una scusa per andare a ballare e a divertirsi fondamentalmente quindi questa sarà la nostra festa stasera e quindi adesso mamma vale darà una mano alla nostra gine magari a dare una sistemata al suo look visto che dobbiamo farlo come compito come incarico lavorativo quindi rifare il look a un sim quindi appena ginevra mi finisce di fare i compiti direi che mammina offrirà offrirà alla nostra gine di rifare il look vediamo se mi sblocca l'interazione ecco chiedi a ginevra di modellare il look perfetto così facciamo anche questa interazione ok e ora non mi ricordo se glielo fa ok no fa l'interazione normale lei la guarda e fanno cose ok wow bello dai ci pensa mamma a darti una mano a farti un bel look per questa festa di halloween ovviamente loro hanno già pronti i loro costumi che tra un momento andremo a vedere allora cara te mi hai fatto vero allora me ne fai un'altra dai doniamo una pozione dell'emozione dai di quelle che avevamo fatto da piccine ok voi avete finito comunque perfetto allora si tu vai non lo so a divertirti vai a scrivere una guida di stile nel blog va bene così a caso va bene fai pure mi piace anzi no no ferma tu vieni qui e mi finisci di dipingere qua vieni vieni allora riprendi di finti illustrativo grande te daniele mi hai finito e caricato la lavatrice sì perfetto vieni qui e ti continui ad allenare e ora tanto noi poi andiamo a seguire le nostre ragazze che andranno a festeggiare e quindi vi faccio vedere un pochino i loro look gli ho preparato degli abiti da festa vi faccio vedere la nostra gine cosa ha preparato voi direte mamma mia che fantasia ovviamente molto autore unicamente si è travestita da strega va bene ragazzi dovevo per forza farlo cioè perdonatemi lo so che è una scelta obbia ma è troppo bella guardate quanto è bella con questo trucco anche particolare e i vestiti ovviamente sempre tutto molto rosso come i suoi bellissimi capelli la nostra lidia mi ha fatto un'altra donazione perfetto vi faccio vedere anche il suo costume lei ha un look che io adoro che è un po steampunk guardate che bella che è con questo look un po da cowgirl diciamo è bellissima ho usato moltissimo proprio gli oggetti di get famous in questo caso è bellissima la nostra lidia e adesso ragazzi facciamo una cosa andiamo a gestisci gli scenari e momentaneamente andiamo a trasferire anche gli altri adolescenti nella nostra unità familiare perché gli ho assegnato io degli abiti precisi e voglio che si mettano quelli senza che perdiamo 10 ore per farli cambiare di abito come sempre così almeno le cose vanno come dico io vedete già qui una diana con i capelli rosa non vi spaventate va tutto benissimo tranquilli è una ora vedrete perché comunque non vi preoccupate quindi trasferiamo loro due ecco qui perfetto e trasferiamo anche il nostro arti che anche lui non vi spaventate lo vedete con questa barbona ma è un costume è un trucco di di halloween solo che me li ha impostati come predefiniti insomma in tutti in tutti look tranquilli adesso rientriamo a giocare con loro e vi faccio vedere un pochino anche un pochino anche il loro look andiamo ok siamo ok siamo tornati siete tutti fuori giustamente perché se no è troppo bello è troppo facile allora quindi loro c'hanno i capelli rosa ma in realtà perché sono tipo delle parrucche oppure magari si sono fatte una tinta momentanea per i loro costumi quindi ve li faccio vedere allora la nostra bellissima diana vi faccio vedere come si è mascherata eccola qui lei è una bellissima fatina e questa è ovviamente una parrucca perché lei ha i capelli corti quindi una bella fatina rosa avevate dubbi poi vi faccio vedere rò eccolo qui rori è un bellissimo pirata ispirato ovviamente al buon jack sparrow di pirati nei caraibi però con i suoi bellissimi capelli questi rasta così che tra l'altro richiamano la sua acconciatura che ha in versione tritone è proprio perfetta per lui un richiamo alla sua sulani e quindi non so ce lo vedevo troppo troppo bene con quest'abito e ora vi faccio vedere il nostro arti da cosa si è vestito eccolo qui lui è molto stile game of thrones è palesemente una specie di john snow e quindi è troppo bello con questa barba e questi capelli anche lui ovviamente indossa palesemente una parrucca ragazzi quindi li ho messi un pochino anche con loro ho usato molto gli abiti di get famous che si prestano molto bene per i costumi di halloween quindi questi ragazzi sono i nostri ragazzi vestiti da halloween sono veramente veramente belli la nostra terza generazione di adolescenti sono veramente molto molto carini quindi io direi ragazzi che è giunto il momento di andare anche perché sono a 9 e mezzo quindi viaggiamo viaggiamo e andiamo finalmente a festeggiare halloween ripassiamo velocemente gli obiettivi che però non mi soffermerò tanto a guardare perché appunto non sono più bimbi quindi il loro obiettivo stasera sarà soprattutto divertirsi gli obiettivi sono quello di fare dolcetto scherzetto che i bambini si presentano non si sono mai presentati non so se è successo a voi questa cosa che vengono i bambini bisogna aprirgli la porta ma a me non è mai capitato poi c'è indossa i costumi in teoria questo l'abbiamo fatto ma vabbè spirito spettrale poi decorare la casa e fare interazioni maliziose quindi queste erano tutte le cose di interazione di halloween però io direi che in questo caso ragazzi faremo un po' un'eccezione non baderemo tanto a questi obiettivi perché più che altro voglio fare una bella festa con tutti i miei adolescenti una bella festa in discoteca come non l'abbiamo penso mai fatta in effetti con gli adolescenti quindi viaggiamo subito ed ecco qua e viaggiamo verso il centro cittadino che offre la locale notturno la discoteca insomma più bella più grande effettivamente tutto dei sims 4 ovvero la discoteca panne europa locale notturno quindi viaggiamo ragazzi e viaggiamo ovviamente con tutti i nostri adolescenti ok siamo arrivati siamo arrivati e io direi ragazzi di andare subito a prendere possesso della pista e come da migliore delle tradizioni è giunto il momento anche per la nostra terza generazione di fare il ballo di gruppo così io faccio una bella foto un due passo va benissimo va benissimo dai ragazzi venite qui fatemi una bella posa che dobbiamo fare l'immagine di copertina di questo episodio dai 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 ora che non c'è nessuno approfittiamone tutti in posizione bravi quanto siete bravi e belli ma quanto siete belli eccoli qui e aspettate fermi tutti che non vi devo fare le foto vai ragazzi scatenatevi eccoli lì siete bellissimi guardate le mossette adoro troppo siete siete veramente troppo belli e notare che c'è anche il famiglio sullo sfondo ok ragazzi divertitevi un pochino ballate poi ci andiamo a prendere qualcosa da bere anzi ascoltatevi un pochino il dj guardate insieme il dj divertitevi e scatenatevi quanto siete bellini mi piacciono tanto i miei ragazzi sono proprio soddisfatta di questa terza generazione che si è assortita cominciamo ad avere anche le nostre coppiette insomma ginevra e arti ormai sono una coppia consolidata infatti gine potresti anche schioccare un bel bacio al tuo arti tra l'altro voglio dire visto che lui è venuto a bella posta da sulani per te perché questo per ora è un amore a distanza quindi giustamente lui è venuto apposta per festeggiare allo insieme a te quindi baciatevi siete qua giustamente lydia qui che fa lei guardate la faccia che fa è disgustata perché lei vi ricordo che vedete è disgustata perché vi ricordo che lydia ha questo tratto qui lei ha il tratto caratteriale lei ha il tratto caratteriale non flirtante infatti vedete cosa mi dice guardate assistito a un gesto volgare lydia appena ha visto due sim che ci davano dentro in pubblico non esiste più la sacralità quindi lei è sconvolta da questa cosa giustamente parla con sua cugina tutta felina parla con il nastino anche tra l'altro dai rallegra allora cantiamo della festività di halloween facciamo un po di interazioni di halloween ok e vediamo rory dov'è anche rory naturalmente farà qualche gesto affettuoso verso la sua diana visto che insomma si stanno frequentando loro non sono ancora fidanzati ragazzi però chissà magari sarà questo il momento giusto anche per chi lo sa per consolidare anche la loro relazione allora io intanto direi di stringere abbracciala la sua diana anche se loro non sono praticamente vivono già sotto lo stesso tetto c'è anche gabriele va bene che è ovunque a quanto pare c'è anche dustin che a quanto pare sono venuti a supervisionare un ragazzissimo e simona ragazzissimo è venuto a ballare e c'è anche teddy va bene che il babbo di rory va bene è una riunione di famiglia praticamente gli adulti mi sa che sono venuti un po a controllare i figli che non facciano stupidaggi no che bello venite a parlare con la nonna tutti tutti a parlare con la nonna dai dai assolutamente la nonnina racconta una storia buffa venite qui e lei mi sa che anche ispirata tra l'altro peccato che non ci sia anche micchi ma che bello tra l'altro ragazzi io ce l'ho come obiettivo è che spirito spettrale la tradizione di Halloween è proprio quella di interagire con i fantasmi con vampiri alieni eccetera quindi perfetto così facciamo anche realizziamo anche questa tradizione effettivamente loro intanto stanno facendo i dispettini va bene che belli che siete tutti qui a festeggiare questa sì che è una bella festa effettivamente loro sono qui a chiacchierare tra di loro picci picci cucci cucci era un monte che non si vedevano giustamente quindi stanno un po tra di loro dai fatevi anche un selfie perfetto che belli che siete bellissima questa foto veramente bellissima sarà un bel ricordo notate che a lui ho messo anche proprio il trucco no cioè proprio con le cicatrici si è proprio truccato per bene d'altra parte sua mamma è un'ex attrice famosa e quindi si intende comunque di trucco di scena guardate quanto sono belli questi due ok poi dicevo lydia si fa il selfie con la nonna ma guardate che belle bellissima sarà una foto ricordo veramente spettrale perfetta per Halloween ed è diventata buona amica di lydia simona perfetto dicevo dai allora anche te stai interagendo con la nonna però voglio che ti fai un selfie col torori assolutamente ed eccoli qua anche loro bellissimi e splendenti con le ali di diana che sono un po nel mezzo ma va bene o quante belle foto ricordo perfetto perfetto quindi qui si balla si danza arti ha appena fatto amicizia con simona in tutto questo comunque li vedo tutti molto molto presi va bene allora vogliamo anche andarci a bere qualcosa tutti insieme andiamo al bar ordinare qualcosa ma vi dirò ragazzi io però verrei qui e sinceramente approfitterei per scatenarmi proviamo a fare un altro ballo di gruppo sapete farmi solo questo voi vero c'è qualcuno che c'è l'abilità di ballo un po più sviluppata no allora anzi facciamo un'altra cosa facciamo una battaglia di ballo facciamo una battaglia di ballo tra lydia e arti così voglio vedere una bella battaglia di ballo vediamo se lui accetta la sfida vediamo se ci sta e vediamo se ok si tutti stanno facendo posto per assistere alla battaglia di ballo del secolo ragazzi eccoli qua dai fateci vedere cosa sapete fare lydia la vedo partita molto bene sono tutti qui ragazzi guardate come stanno ballando bellissimo comunque lydia se la sta cavando bene vediamo rory come risponderà a questa sfida adoro bellissimo bellissimo questa scena guardate loro tutti qua che stanno guardando la battaglia di ballo fantastico vediamo rory se a si rory vediamo se arti ha delle mosse con cui rispondere a lydia vediamo che mossette ragazzi risponde per le rime arti attenzione attenzione bellissimo adoro questo party si sta rivelando veramente scatenato ragazzi ragazzi guardate lì bravissimo il nostro party d'altra parte lui è anche uno sportivo un bagnino insomma c'è la forma fisica dalla sua quindi giustamente alle moves anche lui guardate ginevra come la guarda fiera e orgogliosa allora si sta annoiando a morte in tutto questo invece va bene ok non si sa chi ha vinto però non ci dice chi ha vinto la battaglia di ballo va bene dai venite qui e balliamo tutti quanti insieme dai scateniamoci e divertiamoci un pochino assolutamente ok nel frattempo sono anche passate le due di notte quindi la festa di halloween è finita non mi hanno realizzato manco un obiettivo ragazzi ma non importa sinceramente a questo giro mi interessava il giusto mi interessava più che altro ballare e divertirci c'è anche laura ragazzi ormai sono venuti anche genitori a festeggiare praticamente praticamente una riunione di famiglia e va bene comunque va bene così comunque ragazzi prima di finire questa festa io vorrei fare un'ultima un'ultima cosina vorrei andare un attimo qui in un momento diciamo più privato magari mi venite non sta piovendo vero no quindi possiamo anche andare qua sui divanetti quindi vai qui e diana seguirà il nostro rori perché voglio fare una cosa con loro che potete già immaginare diciamo per chiudere diciamo definitivamente insomma quella che è stata la loro la loro storia d'amore io direi mentre gli altri sono giù che festeggiano e si divertono allora intanto intanto te la baci sicuramente visto che loro insomma loro sono un pochino più riservati diciamo non sono come rori e ginevra che insomma a parte che sono una coppia ormai consolidata eccetera però loro sono un po più timidini sono un po più riservati no quindi rori adesso si farà avanti fino in fondo rivelerà ovviamente la cotta a diana insomma come se non si fosse capita ancora questa questa cosa quando siete carini e poi farà finalmente il grande passo ragazzi le chiederà di diventare la fidanzata direi che è giunto il momento anche per loro di diventare insomma ufficialmente dei fidanzatini e lei ovviamente ha accettato datevi un bel bacino giustamente fate il selfie va bene datevi anche un bacino magari in tutto questo dai datevi un bel bacio brava vi abbracciate quanto siete dolci e baciala dai oh bene e concludiamo così la serata perfetto allora io voglio fare comunque un'ultima cosa ragazzi prima di concludere questo episodio direi che la festa è ampiamente finita quindi torniamo a casa ok eccoci è arrivato voglio fare solo un'ultimissima cosa per diciamo unire conciliare un paio di cose vorrei infatti prendere questo frutto ufo oggetto frutticolo non identificato darlo un attimo a lidia mentre non è suo inventario e vorrei che lidia donasse questo frutto a diana in questo modo diana porta a casa questo frutto che ci manca la collezione del giardinaggio e lidia fa un altro un altro passettino in avanti per il suo distintivo per le donazioni quindi io direi di fare questa interazione piccolo regalino di halloween diciamo poi sappiamo che loro due hanno un legame speciale che si è anche consolidato insomma in gita a windenburg quando sono andate in vacanza insieme quindi ci sta che lei faccia un regalino alla sua adorata cuginetta fai un regalo amichevole e gli regali appunto questo oggetto che diana apprezzerà molto proprio la persona più indicata per apprezzare questo tipo di di regalo dai ecco qua cuginetta tutto per te con gli omaggi di papà per per la tua mamma per la zia perfetto lei è felicissima grazie bellissima era proprio quello che mancava vedete lei mi sa che mi ha forse anche completato i distintivi va bene ragazzi io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui vi faccio vedere il calendario perché oggi siamo al venerdì penso che questa giornata sim me la giocherò io per conto mio in modo da far andare un pochino a portare un pochino avanti le nostre ragazze con le loro con le loro attività quello che abbiamo fatto semplicemente oggi per appunto portare avanti farle cercare di far completare le le loro carriere extrascolastiche e per portare avanti un pochino le le loro abilità che sono quelle che già vi ho fatto vedere quindi ginevra con la recitazione e magari un pochino anche le arti magiche e con l'idea invece tutto quello che le servirà per poi andare a salvadorada e per completare i distintivi e in questo modo almeno poi vediamo insieme il completamento del loro ciclo però appunto userò io questo giorno sim magari per off camera farle andare avanti fare delle cose che appunto poi sono ripetute magari diventano un po noiosine e invece ci vedremo nel prossimo episodio che sarà il sabato sim che vi ricordo ricorre la festività del 2 novembre quindi andremo a fare una cosa molto allegra andremo al cimitero a celebrare i nostri nostri defunti quindi andremo a trovare simone daniele e a trovare anche tutti a piangere tutti i pelosoni di gabriele e laura e poi quindi vi dico un pochino quello che sarà il programma insomma prossimamente quindi questo e poi ragazzi e poi nell'episodio successivo giocheremo in particolare con le nostre gemelline e vedremo appunto di cominciare a prepararci per tutto quello che sarà necessario per andare all'università quindi vi rivelerò che cosa ho in mente per loro e ragazzi festeggeremo il compleanno delle gemelle quindi ci prepariamo per far diventare adulte le nostre gemelline perché come vi ho fatto vedere ormai siamo agli sgoccioli come vedete dal calendario mancano un paio di giorni quindi tanti tanti eventi e poi ragazzi finalmente siamo pronti per cominciare con l'università io per questo episodio mi fermo qui spero che vi sia piaciuto e come sempre fatemi sapere cosa ne pensate con un piace nei commenti e noi quindi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ragazzi